Siamo con lo chef Chico Cerea, questa sera ad Astino, si chiudono tre giorni intensi, più di 4.000 persone che sono venute a mangiare, assaggiare i vostri sapori. Come è andato? Direi un risultato positivissimo, questo è l'anno zero, se non calcoliamo la festa del cinquantesimo qui ad Astino di Vittorio, è stata una prova per tutti, però è una prova ben riuscita, è una prova che ci ha dato tante soddisfazioni a noi e anche al pubblico, chi è venuto a trovarci. Bergamo ha risposto benissimo a questa iniziativa e speriamo che l'amministrazione, che si sta muovendo molto bene, ne faccia altre e noi operatori siamo pronti ad appoggiarli e ad aiutarli. Quindi possiamo aspettarci un Astino B per tutti gli anni? Guarda, io me lo auguro, poi sai purtroppo i desideri non sempre si avverano, però se troviamo i giusti sponsor, i giusti appoggi, senz'altro questa è una manifestazione che dobbiamo assolutamente regalare a Bergamo, Bergamo merita queste cose.